Soluzioni di noleggio a lungo termine auto, moto e van MobilitySolutions.it Non era una partita facile, ci aspettavamo una squadra che comunque col fisico è un po' più avanti di noi comunque però noi abbiamo un tocco diverso, essendo sudamericani stiamo impiantando un gioco di 5 centrocampisti, un centro avanti, comunque sta andando bene ci aspetta una prossima partita un po' difficile questa partita all'Italia con quello che ci aspetta aspettiamo chi vince, non sarà facile però stiamo lì i ragazzi comunque stanno in forma, non come le prime partite come abbiamo cominciato adesso stiamo più in forma che mai come ti ho volto a ripetere, sarà una partita difficile però ti dico, stiamo col fisico bene quindi ci aspettarà una partita difficile però sarà una bella partita grazie a tutti Grazie a tutti.